Giuseppe Garibaldi è il suo mito nella pittura, è il titolo della mostra visibile a Palazzo Lascaris a Torino sino al 30 aprile. Curata da Lorenzo Zichichi e Massimo Fino, la rassegna rivela l'autentica passione che animò lo spirito patriottico del condottiero italiano e gran parte delle opere esposte provengono dalla collezione Tronca, una delle più importanti per le testimonianze garibaldine. Dal mito di Garibaldi da Castel Sant'Angelo a Roma a Torino, una delle collezioni più prestigiose a livello nazionale, la collezione Tronca. Sì, una collezione che sta per partire anche per il Brasile e farà una torne in Sud America. Di questo sono molto orgoglioso perché questa collezione rappresenta lo spirito di una vita di impegno per la storia, per il risorgimento, per i nostri patri della patria e soprattutto per i nostri valori che oggi vediamo esaltati nella Carta Costituzionale. E tutto questo ha un significato molto profondo che io affido come testimonianza alle nuove generazioni. La vita di Giuseppe Garibaldi rivive a Palazzo Lascaris in un'esposizione pittorica e di altri cimeli. La vita di Giuseppe Garibaldi ma soprattutto il suo mito, un mito che è ancora oggi presente nell'arte, tant'è che oltre ad alcune opere di artisti dell'Ottocento che avevano già mitizzato Garibaldi, ci sono anche quelle di artisti contemporanei che proprio su Garibaldi hanno realizzato delle nuove pitture.